Oggi abbiamo realizzato un'attività di forestazione compensativa a Milano presso Parco Nord in collaborazione con alcuni volontari. Gli interventi forestali a Parco Nord vengono realizzati mettendo a dimora specie autottone tipiche del bosco mesofilo planiziale, ovvero di quel tipo di bosco che è caratteristico della pianura padana. Le attività forestali di Parco Nord sono cominciate nel 1983 e da allora è cominciato un processo di pentumazione che ci ha portato oggi a piantare il 32esimo lotto di rimboschimento. Quello che piantiamo oggi grazie a Rete Clima è il 32esimo lotto di rimboschimento, significa che ogni anno dal 1983 abbiamo messo a dimora boschi e siamo arrivati ormai a 100 ettari di boschi, un milione di metri quadri, che ricoprono il Parco Nord e caratterizzano questa foresta urbana. Crediamo che questo sia un'attività importante anche per contribuire non solo a contrastare il clenocene globale, ma anche a operare concretamente per nuovo verde in contesto urbano. Rete Clima realizza degli interventi che sono concreti e tracciabili. Sul nostro sito è possibile andare a trovare gli interventi di forestazione urbana che abbiamo realizzato.